Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Viaglù, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, laddove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà, in termino signor Presidente, perché non la voglio mettere in difficoltà, ma una grande canzone di Adriano Celentano che raccontava la speculazione edilizia nelle nostre città. Per fortuna è intonato, devo dire. La ringrazio, non tanto, un mezzotono l'ho sbagliato e chiedo scusa ai musicisti.